Buono l'allineamento, discorso Nabucco giallo dalla prima fila, ecco il lancio con Nugola Lung maestro e Matasdra in evidenza, maestro che scavalca Nugola Lung con la rottura di Matasdra, la rottura anche di narratore BS, 13.9 il lancio, velocissimo, leader allora maestro su Nugola Lung, Nevi B, poi Neruda Trio, Nobel Trio, lunga e prevedibile fila indiana, 34 comunque il mezzo giro di maestro che ha dovuto strappare violento per respingere Matasdra che poi è sbottato di galoppo, ora si aspetta una marcia di trasferimento almeno fino a un giro dalla fine, tanto sposta l'esterno Nobel Trio, 47.600, la scia di Nobel è presa da Nord-West mentre scatta dalle retrovie Magia e K, lo scatto di Magia che non accetta il rallentamento notevole, il giro in 1.39 ed ecco Magia che arriva ai fianchi di Nugola Lung, vediamo il chilometro, il maestro in 1.19.2, maestro leader su Nugola Lung di fuori Magia, poi Nevi B che ha scelto la scia di Magia in anticipo su Neruda, tanto sposta Nord-West in terza ruota, terza ruota di Nord-West che scavalca Nevi B e prova a fare altrettanto con Magia per andare su Maestro, tanto sbaglia Nabucco, retta di fronte con Nord-West che prova a serrare i tempi, sembra in calo Nugola, Miglio in 2.5 e mezzo, Magia si è accodata nella scia di Maestro e poi è sempre a mezza ruota per anticipare Nord-West e siamo all'ingresso in retta con Magia che torna a spostare su Maestro, Maestro in vantaggio all'ingresso in retta d'arrivo, controlla nel finale su Magia, a centro pista Nord-West, poi torna Neruda, vince Maestro su Magia e su Nord, 2.36 per il doppio chilometro, il successo di Maestro che ha confermato tranquillamente il pronostico, corre molto bene Magia e K che alla fine è ancora seconda.